Musica Oltre 26.000 aziende rimaste chiuse per un totale di 66.000 addetti e una perdita di valore aggiunto pari a 370 milioni di euro. È la stima del danno economico prodotto sul distretto pratese per effetto della serrata imposta dall'emergenza Covid, misure restrittive equistrasci che continuano a farsi sentire e che si teme possano peggiorare a partire dal prossimo settembre. Secondo alcune proiezioni, se il trend dovesse proseguire, il 2020 potrebbe chiudersi in città con una perdita di 12 punti percentuali del PIL. Purtroppo siamo ancora in una fase di transizione. Il peggio noi lo ipotizziamo perché si tramuterà in atti concreti in cui metterà a nudo tutta quella che è l'effetto già da settembre in poi. E lì veramente vedremo la situazione reale ed effettiva. Mai come in questa occasione nulla sarà come prima. Tante crisi abbiamo passato, da tante crisi ci siamo risollevati. Il nostro distretto è in grado di affrontare e di riciclarsi, riposizionarsi, reinventarsi. Questa è un'occasione in cui davvero dovremo tirare fuori tutte le nostre capacità per poter affrontare queste crisi. Ma soprattutto dobbiamo essere convinti di avere un obiettivo chiaro per quello che vorrà essere il nostro percorso in futuro come società, come aziende, come territorio. Tra i settori più colpiti dalla crisi da coronavirus, il comparto turistico e della ristorazione è quello dell'artigianato, manifatturiero e non. In linea generale la provincia pratese si colloca al quarto posto in Italia, dopo Fermo, Lecco e Pordenone, per quota di valore aggiunto riconducibile ai settori sospesi. Con il 58% si piazza ben al di sopra della media toscana, pari al 44,6% e di quella nazionale ferma al 40,8%. E se l'isolamento ha permesso da una parte di fare un salto in avanti sul fronte della tecnologia e di allargare la platea degli utilizzatori dei nuovi mezzi di comunicazione, allo stesso tempo la chiusura prolungata ha messo in evidenza la fragilità delle imprese, soprattutto rispetto alla liquidità. Ecco quindi entrare in gioco l'associazione, che nei mesi scorsi è rimasta sempre attiva, aperta e a disposizione degli associati con diversi strumenti. Noi non siamo mai stati fermi, ci siamo sempre preoccupati di dare l'informazione e la comunicazione delle interpretazioni normative che sono emerse nel corso del tempo, ma soprattutto abbiamo rafforzato lo sportello digital che è aperto in associazione, proprio perché la pandemia ha messo in luce il ritardo, in qualche maniera, il ritardo delle imprese nei confronti dei nuovi strumenti digitali, che sono stati indispensabili però per quanto riguarda questo periodo. Sicuramente noi saremo anche attenti al monitoraggio di quelle che sono le politiche che verranno messe in atto da ora in poi. Stiamo monitorando anche grazie al nostro centro studi nazionale quelle che possono essere le proiezioni. Ogni 15 giorni dal nostro nazionale, dal nostro centro studi escono delle proiezioni e aggiustiamo il tiro proprio grazie a queste proiezioni di carattere economico che emergono a livello nazionale e le riportiamo sul livello locale. In vista di settembre, momento in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni regionali, il presidente Luca Giusti lancia infine un appello ai candidati alla poltrona di governatore della Toscana. Noi abbiamo visto spesso quante problematiche ci siano state per poter attuare i provvedimenti che erano emanati a livello nazionale, a livello governativo e che poi spesso sui livelli regionali non trovavano piena corrispondenza, anzi hanno in qualche modo in alcuni casi evidenziato dei contrasti, delle difficoltà e dei conflitti. Noi auspichiamo che a settembre, come sapete, ci saranno le elezioni regionali. Auspichiamo che il ruolo del governatore sia un ruolo chiaro, ma soprattutto che sia un ruolo che metta in luce e in evidenza l'importanza dei corpi intermedi, l'importanza dei sistemi associativi come interlocutori, come terminali dei territori, come coloro che sono capaci di portare con voce chiara le istanze delle imprese e dei cittadini. Questo è l'auspicio che veramente facciamo e l'augurio che facciamo, nonché l'invito a chi si candida per questo ruolo così importante. Grazie per la visione!